Buongiorno, mi racconti come si chiama? Lei è il presidente quindi? Io sono Nino De Logo, il presidente del Garage del Tempo, che è un club attivo sulla costa di Etruschi con sede a Cessina. La nostra particolarità è che noi facciamo una manifestazione riservata a vitture d'inizio novecento, che si chiama Piombino Livorno 1901, è la commemorazione della prima corsa motoristica della Toscana, che avvenne appunto da Piombino Livorno, che fu vinta dalla Fiat, la prima vittoria della Fiat, e la prima vittoria di Felice Nazaro, che è un grande pilota al suo esorto. Grazie.